Ciao amici, oggi voglio lavorare i nostri glutei, perché i glutei sono importanti, ma molto importanti per tutte le donne e anche per i uomini, perché quando le donne sono contente con i glutei, i uomini sono contenti perché una donna contenta rende felice l'uomo che gli sta vicino. No, a parte scherzo ragazzi. Però andiamo a lavorare con l'elastico oggi, se non c'è l'elastico potete anche magari usare un paio di calze vecchie, ok? Legate un fiocco, ok? Un bel fiocco intorno alle caviglie e cominceremo a usare sia la tensione del nostro elastico sia proprio l'accelerazione del trampolino per avere i risultati. Ok, marcia! Ok, andiamo. Primo minuto dedicato alla marcia. Riscaldiamoci bene le nostre esterne cosce, i nostri glutei. Dai, vai, vai! Ok, ancora. Via, ok. Cominci a camminare avanti e indietro. Avanti e indietro. Ancora. Tira sull'elastico, non permettere che quell'elastico ti controlla. Ancora, ancora. Siamo a 25 secondi, ma tu continui perché dobbiamo fare minuto dopo minuto. Ancora. Tira, 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 tira. Rimani in centrale e tiri sull'elastico, tiri sull'elastico. Un bel passo da marcia, ok? Dai, 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 dai. Ma provi anche di spingere sul trampolino così hai anche il ritorno, diciamo, dell'accelerazione del trampolino. Ok, relax un attimo. Ci avete 10 secondi, 10 secondi per recuperare e poi comincieremo a fare il passo di granchio. Mettetevi tutti qui, lato a lato e facciamo passi proprio. Piccoli step touch. Piccoli step touch, ok? Le punte dei piedi sono frontali, vanno nella stessa direzione delle ginocchia. Continui. Vai, vai, vai. Ancora. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Ancora. Andiamo. And touch. Step touch, step touch, step touch. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Continui, continui. Lo senti i glutei come stanno lavorando? Continui. Tira, tira. Infatti anche quando ti vuoi allenare da solo, prendi un orologio, fissi un minuto esercizio e continui. E dici, guarda, voglio fare 25 minuti di esercizi e cambi. Ok, relax di nuovo. Abbiamo la possibilità di rilassare per 25, 10 secondi, scusami. Portate le gambe destra sopra. Anch'aggiate un po', è cominciato a spingere giù, verso il centro del tappeto. Ok? Giù, giù. E comincio a sollevarmi. E sto spingendo verso basso. Non pensate di sollevarvi. E tutta la tensione sta sulla gamba dove è appoggiato. Su, il trampolino. Oh, si sente. Push, push. 25 per gamba, 25 per gamba. Oh, sì, 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 sì. Continua a spingere. Vai, 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 vai. Ok, cambia gamba. Mamma mia, si sente tutto. E spingo, spingo, spingo. Ancora, ancora. E sollevo. Vai, vai. Lo senti il lavoro? Proprio comincia a bruciare. Ancora. Dammi un'altra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok, adesso andiamo a fare proprio stacchi. Ok? Schiaccio, scendo. Porta il gluteo in avanti. Ok, talloni insieme. Mando in avanti, bacino. Ok. Avanti, scendo. Avanti, scendo. Schiaccio i glutei. There you go. Ancora, vai, vai, vai. Ok? Piccolo circuito. Schiaccio i glutei e scendi. Schiaccio i glutei e scendi. Continui. Vai. Ancora. Schiaccia. Squeeze. Dai, 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 dai. Continuate. Ok. Spingo. Ok? Taloni insieme, interna coscia insieme. Porta il bacino avanti e schiaccio i glutei. Glutei. 3, 2, 1, stop. Mamma mia, si sente tutto. Ok? Scendete giù. Legatevi velocemente le caviglie. Che andiamo a lavorare proprio sull'esterno coscia. Che non guasta. Sempre fare un fiocco. Ok. Ok. Ok, aspetta. Devo spostarmi il mio microfono. Ok. Ok. Tiro. Tiro, tiro. Piccolo salto. Piccolo salto. Tieni le gambe. Sempre tese. Tese. Good job. Ok. Porta l'elastico su. Porta l'elastico su. Intorno alle ginocchia. A carpioni. Carpesta. Tira l'altro indietro. Spingo. 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 Sì. Ancora. Ancora. Con l'elastico diventa sempre più teso, più difficile, ma molto più efficace per un bel lato B. Sì. Vai, vai, vai. Schiaccia. Ancora, ancora. Tira. Tira. Glutei. Ok. Cambio, cambio, cambio. Con l'altra gamba. Spingo. Spingo. Push. Schiaccia i glutei. Schiaccia i glutei. Dai, 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 ragazzi. Dai, dai, dai. Ah, sì. Come si sente con l'elastico, eh? Spingo. 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 3, 2, 1. Relax. Ok. Finiamo proprio in bellezza legando le nostre gambe. Ok. E andiamo. Allargare e chiudere. Allargare e chiudere. Diciamo un V rovesciato. Ok. Vai, 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 vai. Andiamo. E tira, 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 tira. Ok. Bravissimi. Ok. State provando di allargare le gambe. Ok. Spingo in centro del tappeto. Continui ad allargare. Schiaccia, schiaccia, schiaccia. Non rinunciare a questo allenamento. Dai, ragazzi. Ottimo, ottimo. Continuate. Abbiamo quasi finito. Dai, dai, dai. Tira, tira. Ancora. Scatto finale. Scatto finale. E poi vi faccio anche ripetere tutto il circuito. Così ci avete una bella lungo allenamento tutti insieme. Ricordate, l'elastico è importante. La potete trovare facilmente in giro. O altrimenti usate un paio di calze. Eccoci, abbiamo finito. Un paio di calze usate. Così diventa una resistenza veramente facile da gestire. Ok. E' molto efficace. Ok. Così. Ricordate di creare playlist con i miei video. Così sul tuo canale. Così mi potete trovare sempre i nuovi esercizi, quelli che ti piacciono. E mi raccomando, condividete questi video se vi è piaciuto. E ti aspetto qui, sempre sul mio canale, per il prossimo allenamento insieme. Nuovi video ogni settimana. Ciao a tutti. Vi voglio bene.